Musica Sconto tra un furgone e Fiat Ducato, una forfiesta oggi lunedì 28 maggio intorno alle 15 sulla strada provinciale 565 Piedemontana all'altezza dello svincolo per Baldissero Canavese. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Lossi di Castellamonte e Rivarolo, le rissoccorse del 118 e i carabinieri. Sulla forfiesta viaggiava una coppia di Rivarolo Canavese di 69 anni, mentre sul furgone c'era un 37enne residente a Torino. L'uomo sulla fiesta è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino con un grave trauma cranico, mentre i due conducenti, ossia la donna e l'autista, sono stati portati all'ospedale di Ivrea per controlli. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario per permettere l'operazione di soccorso e rimozione dei mezzi, la dinamica dell'incidente e il valio dei carabinieri. L'uomo sulla fiesta è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario di soccorso e rimozione di soccorso e rimozione di soccorso e rimozione di soccorso. Sono alta. Grazie.